avete mai visto la guida di mercy by power no allora è il momento di scoprirla giocatemi in mercy ovviamente specialmente se avete il vostro ragazzo a boostarvi con uno smurf grand master una volta fatto prendete la vostra tastiera la vedete bellissima questa tastiera bellissima fate questo così e togliete il tasto Q ma dove è finito? è qua guardate vedete questo? è il tasto Q ragazzi il tasto Q a cosa serve se giocate mercy? ragazzi non serve a niente mettetevelo in testa musica date c'è chi date? dove stanno? dove stanno? alla mia sinistra oddio! 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 l'ho ammazzato! porco due! no 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 cazzo c'era niente che so david non l'ho fatta apposta ti giuro su dio non l'ho fatta apposta hai deciso te? la granata ti giuro su dio ho premuto il tasto per levare la granata non solo prima che ti vengano a fuga il sacco nel maiale ma il col 2 finisce sempre così che lei ci va a rimettere shhh ripa case fai il giro fai il giro fai il giro fai il giro e diamo il giro e diamo il giro a questo forse ce nemmo sul sasso da sopra io ne vedo chi vuole c'è mi metti il segnale che il sasso là sopra bravo scendi bravo furbi furbi scendi va vai scendi scendi vai bravo bravo coglione andiamo al trio di casette e merda che è incasinato ah quindi vuoi entrare proprio con le pistole spianate allora ragazzi una cosa ci avete il tasto per la voice la prima cosa da fare è se vedi uno è urlare così e fare il grido di guerra perché non gli fa capire un cazzo a lesbia 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 quindi arriviamo qui sopra ci mettiamo dietro questa torre e ci camperiamo come le merde di satana è pronto tiltoni mi dia la vita per favore la prego non ho merito di cristo tiltoni come non hai preso aspetta che c'è una piena tiltoni ti ho lasciati lì perché doveva prenderla lei tiltoni? tiltoni lei trolla come una bestia ci son due goccodrilli ed un power tango due piccoli tiltoni un piccolo draggixo e poi c'è pure gagotto che però in verità si chiama gixo solo non si vedono ceris e verità che partirà per mari che non ho mai veduto e vissuto con te a me è l'ultimo è l'ultimo da solo allora aspetta cominciamo a splittarci io mi splitto verso sinistra ti ha lo sottotiro morco ho due ma sei tu ultimo colpo gli manca un colpo ok ce l'ho davanti gli sono dietro preso boom baby let's go let's go power and siva le due let's go baby l'abbiamo venuta datemelo in faccia proprio così ah dove l'ho lanciato ora portate via siesa oh se ci riesco a rimanere che l'hanno la merda ho rischio ma che ca...come cambio l'arma? non ti cambia l'arma? prova la rotella non c'è la rotella non va 1 2 ma chi è quel ritardato che ha messo sti commenti? controlli mi chiedo 74% di accuracy certo frate Certo, frate! Certo, frate! Winston is called it! Winston is one shot! No, no, no! Forza Juveno! Pizza Carbonara! Pizza Carbonara is carrying your fucking ass! How hard can it fucking be? Fuckin' Carbonara! C'è un buon tempismo, cioè non è che... Aspetta, aspetta! No, riprova, riprova, riprova! Vengo verso di te, così... Ma aspetta, tu vuoi bloccare il charge o mentre lui già chargea? Ops, troppo presto! Dove devi farlo? Vado! C'è power! Vado! Oh mio Dio! Vado! 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 Vado!